ben trovati nell'angolo dello sport partita giocata e persa ad Avellino una partita che che deve essere vista insomma da diverse angolazioni intanto vorrei ringraziare Pescara Sport 24 degli amici Luciano Rapa e Tondo Donati per questa splendida foto una rullata e poi un colpo di testa eccezionale che però poi non è finito in rete allora dicevo partita giocata e persa dominata per tutto il primo tempo il Pescara sembrava potesse fare 3-4 reti e a quel punto mi mi era sorta spontanea la domanda ma come ha fatto una squadra questa squadra dell'Avellino ad essere così in alto in classifica con questa pochezza di gioco poi che è successo che nel secondo tempo il mister dell'Avellino Rastelli ha indovinato due spostamenti il tecnico del Pescara invece li ha sbagliati non me ne vogliono quei tifosi che parteggiano per Marco Baroni ma certe verità vanno dette per onestà di cronaca il Pescara ha lasciato tutta una fascia a disposizione dell'Avellino e il nostro centrocampo è stato letteralmente sfaldato da Baroni lui ha le attenuanti di Selassi che si era infortunato di Bjarna che non era nelle migliori condizioni però gli errori sono stati fatti le sostituzioni dovevano essere altre adesso non mi metto ad infilare ancora il dito nella piaga perché so quanto male fa e soprattutto quanto dispiacere hanno avuto quei ragazzi soprattutto tra i quattrocento non so quanti erano con precisione tifosi del Pescara che sono andati al parteggio di Avellino subire una sconfitta di questo genere certo è che la classifica adesso si mette in un modo diverso cioè adesso sei costretto a giocare contro il Perugia sabato prossimo e devi batterlo e non è facile e poi del Perugia parleremo più diffusamente nelle prossime edizioni di TVQ Sport per dirvi come il rendimento della squadra di Andrea Camplone in trasferta certo è che il Pescara si è messo in una condizione di maggiore difficoltà per poter accedere ai playoff in una posizione diciamo più comoda possibile certo è che se arrivi all'ottavo posto va bene lo stesso perché il programma prevedeva questa conquista dei playoff però farla in settima, ottava posizione significa dover fare una partita in più significa insomma avere qualche ostacolo in più da dover superare certo non tutto è perso però come valutazione la fatta che a Varese dovremmo trovare una squadra in disarmo dovremmo trovare una squadra in disarmo però poi hai due partite in casa allora la prima sabato prossimo col Perugia e poi con il Livorno anche il Livorno impegnato nella conquista di un posto ai playoff e il Pescara lo sappiamo tutti soffre più in casa che non in trasferta dici ma allora è un controsenso quello che stai dicendo considerando che ieri abbiamo perso ad Avellino no non è un controsenso perché in definitiva lì sono state delle situazioni un pochino abnormi qualcuno parla anche di tante intimidazioni tra il primo e il secondo tempo io non ero presente quindi non posso parlare per bocca di altri quindi dico soltanto quello che mi hanno detto alcuni inviati amici c'è stato un clima piuttosto intimidatorio vabbè chiudiamo qui c'è tempo e modo di rifarsi però il Pescara deve dimenticare assolutamente questa debacle perché una debacle è stata e cercare di farsi queste tre finali nel modo migliore possibile un abbraccio a voi tutti da Gianni Lussoso come sempre un grazie al regista Leo Di Blas e ancora un grazie a Forza Pescara TV per le immagini che quotidianamente mi regala grazie a tutti a risentirci grazie a tutti